Fuochi d'artificio per festeggiare il lavoro. Questa è a tutti gli effetti una buona, un'ottima notizia che riguarda il territorio della provincia di Arezzo. Siamo nel comune di Lucignano e è stato appena inaugurato il nuovo stabilimento della Svi. Sentiamo allora di che cosa si occupano e quante sono le persone che lavoreranno all'interno di questo stabilimento. Attualmente siamo 85 e le previsioni sono che l'azienda si sviluppi a arrivare velocemente in 3-4 anni a 120. Noi facciamo da sempre macchine ferroviarie per la manutenzione e la costruzione dell'infrastruttura. In gergo si chiamano mezzi d'opera ferroviarie. Contiamo in questo nuovo stabilimento di continuare e potenziare la questione dei mezzi d'opera ferroviarie per l'Italia e per il mondo dove già esportiamo. Ma cerchiamo di strizzare un occhio anche alla ferrovia vera, ai treni che sono qui vicino a noi e quindi può darsi anche che abbiamo preparato un reparto per poter fare anche la manutenzione dei treni. E dentro troverete già due treni messi significativamente a dimostrare che avremo quell'intenzione. Un taglio del nastro salutato felicemente anche da parte delle istituzioni locali, regionali e nazionali che erano presenti alla inaugurazione e che insomma guardano ovviamente con favore a tutti quegli imprenditori che scelgono ancora nonostante tutto di investire in Toscana e in Italia. Per noi è un giorno importantissimo, è uno dei giorni più importanti per la vita professionale e un po' per tutta la Svi a questo punto. Era un traguardo che sognavamo da diverso tempo, è stato difficile realizzarlo però oggi possiamo dire di averlo realizzato, questo per garantire un futuro a questa azienda. Abbiamo fatto questo passo e abbiamo deciso di farlo sei anni fa, in tempi non estremamente sereni per quello che era la condizione politica, anche economica, però è stato il nostro convincimento di dire vogliamo investire in Italia, siamo convinti che l'Italia ci possa dar tanto e noi possiamo dare tanto ancora all'Italia, anche se sembra un'affermazione esagerata. Però veramente questa è stata una nostra scelta, l'abbiamo perseguita e oggi siamo ben contenti e felici e sicuri di aver fatto la scelta assolutamente giusta.